Il vicefischio dell'arbitro, sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio, è stata dura, la partita è sempre stata in bilico, alla fine però sorridono loro. E invece la tua analisi di questa gara qual è Luca? Partite così vorresti che non finissero mai, è stato davvero un bello spettacolo con i giocatori che hanno dato il massimo dal primo all'ultimo minuto. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo, un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie a te Fabio. Grazie a te. 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 Grazie a te.